Altro no, sempre, se fossi stato, segretario del Reganord sempre, ma non sono mai stato così, è vero, più o meno, concierto così no. Insomma dai, adesso sono qui, poi che dica che sei, soddisfatto di me, in fondo, in fondo non sono mai stato, soddisfatto di che, ma va bene anche se, qualche volta mi sono sbagliato, e liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa, chissà dov'è, chissà dov'è, chissà dov'è, finché eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché, forse eravamo stupidi, ma adesso siamo cosa, che cosa sei, che cosa sei, Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è Allora un saluto, applauso, 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 un saluto a Radio Rock, anche se Radio Rock con De Andrei Modà, non so, però va bene, viva Radio Rock De Andrei Modà, vai, e viva Pasqua, sempre e comunque, viva Pasqua, e tutto quello che succede all'interno dello stadio di Concezione di Pasqua. Uscire nell'Europa è rock, molto rock, è giovane, è futuro, è speranza, l'Europa è vecchia, è musica zigana, a me non piace. Ok, ciao, grazie a voi, traditori.